Fabio Balaso, una partenza in salita dei play-off Scudetto, ma questa lube ci ha abituato a grandi reazioni. Sì, potevamo e volevamo che fosse diverso quest'anno, la partenza fosse più positiva, non l'è stata, è stata sicuramente una brutta gara mercoledì. Adesso dovremmo rimboccarci le maniche e andare lì a Monza con la consapevolezza che possiamo farcela e riportare le cose in parità e ritornare qui all'euro scuole con la voglia di andare avanti e portarci a casa a questo quarto di finale. Giustamente Chico Blengini dice che bisogna guardare solo avanti, però voi avete già espugnato Monza, cosa al di là dell'aspetto mentale che dovrà fare la lube per vincere lì? Sicuramente giocare meglio a palavolo, visto che comunque nell'ultima partita è un successo, dobbiamo cercare di capire dove fare meglio e dove continuare a progredire. Secondo te è un ostacolo quello di avere partite ravvicinate di play-off Champions League? Riuscirete a resettare da un match all'altro? Un ostacolo in parte, però comunque adesso è il momento più caldo, sapevamo che comunque il periodo è questo, si gioca ogni tre giorni e quindi dobbiamo adottarci, anche se non ci sarà molto riposo, ci si allenerà poco e dovremo giocare tanto e al meglio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!